Una considerazione, allora, se Salvini non avesse staccato la spina, voi che cosa avreste fatto? No, no, ma noi saremmo andati avanti come dei treni, ma infatti su questo punto... Come dei treni, ma avete dei punti di vista assolutamente diversi. No, guardi, sulla riforma della giustizia non si transige ed era sul tavolo proprio in quei giorni con la ministra della giustizia... Centinaio poco fa, detto qua, che sembrava scritta da un bambino di 4 anni che neanche suo figlio, parole testuali. L'ha detto centinaio questo. Era il vostro alleato, certo. Va bene, ma era il nostro alleato, infatti. Noi sulla riforma della giustizia non avremmo fatto mai nessun passo indietro, su quello non si passava. E forse anche per questo Salvini ha staccato la spina. E' uno dei tanti motivi, io non penso che l'abbia fatto semplicemente per capitalizzare il consenso. Però voi a Salvini gli avete fatto un grande favore, perché per esempio su Salvini non avete votato come avete votato ieri, quando ci fu il caso Diciotti. Quindi alla fine, se lei mi parla di privilegi, allora, un privilegio o è tale... Eh, ma allora vede... Ma allora vede... Non è diverso il merito, è diverso proprio... Anche lei lo distingue da privilegio a privilegio, comunque quello è un privilegio, perché il voto in Parlamento ha impedito... Però stiamo parlando di due fatti diversi, di due situazioni diverse. Nel primo caso si parla di un interesse privato, cioè di un'azione compiuta da privato cittadino, nel caso di Sozzani. Nel caso di Salvini, noi l'abbiamo detto sempre, non è... si parlava di fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni di ministro, è che noi abbiamo rivendicato la questione della Diciotti, noi come governo l'abbiamo sempre rivendicata. Quindi non è un fatto privato, commesso da Salvini, un fatto di corruzione, che si è intascato una mazzetta, oppure per fare un favore al partito. Quello comunque di non essere sottoposto al giudizio della magistratura è un privilegio, anche se ha queste spiegazioni che io accenso. Quello che si chiedeva alla Camera era quello di accertare che l'azione fosse compiuta nell'interesse dello Stato oppure nell'interesse proprio. Noi abbiamo sempre ritenuto che fosse un'azione compiuta nell'interesse dello Stato. Fatemi salutare anche Giovanni Totti, che è un'azione compiuta nell'interesse dello Stato.